La cabina di regia riunita ieri a Palazzo Chigi ha annunciato la modifica delle regole per quarantene didattica a distanza. Da lunedì cambiamenti in tutti gli ordini di scuola. Per l'infanzia è prevista la sospensione della presenza per tutti al quinto caso di positività e la didattica a distanza può essere disposta solo per cinque giorni e non più per dieci. Per la primaria la DAD sarà prevista solo per i non vaccinati e a partire dal quinto caso di positività in poi, mentre al primo caso di positività scatta solo l'obbligo di autosorveglianza. Nella secondaria si passerà la didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati. Le nuove regole prevedono che dal secondo caso in poi i vaccinati con terza dose e i guariti restino in classe mentre per i non vaccinati si sospenda la didattica in presenza per cinque giorni. Così come è avvenuto a gennaio, l'insieme delle misure che si stanno varando sono finalizzate a dichiarare una normalità inesistente e non adeguata ai dati di contagio che vive ogni giorno la scuola. Siamo preoccupati, dicono dalla CGL Chieti, abbassare le difese per dire che va tutto bene non risolve i problemi, mentre la settimana si contano quasi 400 morti al giorno. Queste misure di semplificazione rappresentano per il governo un tentativo di normalizzare forzatamente le condizioni di vita nelle scuole, garantendo la didattica in presenza a qualunque costo, anche a rischio e pericolo, degli alunni più piccoli che stanno in classe senza mascherine. Per noi semplificare non vuol dire diminuire le tutele, ma rendere omogenee le regole per tutti gli studenti della classe, indicando misure chiare per tutti, non farraginosi conteggi. Grida vendetta la differenziazione fra alunni vaccinati e non vaccinati. Fare scuola, chiude il sindacato, non significa stare in didattica mista. Occorrono strumenti adeguati per evitare un impoverimento dell'offerta formativa da garantire alle studentesse e agli studenti.